La valutazione utilizzata manifesta tutta la sua strumentalità. Le valutazioni dovranno essere svolte e gli approfondimenti dovranno essere compiuti con tutta l'urgenza e l'attenzione che il caso merita e richiede. Il Governo è certamente conscio di tutto ciò e pertanto il sapore della mozione in punta appare come un'indebita forzatura collocata all'interno di un processo valutativo assai delicato. Che non può e non deve essere condizionate dagli umori della politica ma invece condotto con tutta la sapienza, l'indipendenza e la tresperienza possibili. Con queste riflessioni e queste osservazioni chiudo il mio intervento auspicando che il Parlamento voglia imboccare senza indugio la strada della verità e dell'efficacia lasciandosi alle spalle strumentali ed inutili polemiche che certamente non aiuteranno alcuno ne potranno neppure indurre sollievo a chi quei terribili abusi ha subito. Grazie, signor Presidente. Grazie a lei, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Il Governo intende intervenire o si riserva di farlo successivamente? Prego. Grazie, sì Presidente. Ho ascoltato con interesse i vari interventi e proprio perché si tratta di un argomento molto importante e delicato sul quale il Governo mostra grande attenzione e quindi esprimerà i pareri all'esito del dibattito e quindi quando sono intervenuti tutti. Voglio dire solo in questa sede due cose. Una, richiamare l'attenzione e segnalare come il Governo sia attento e voglia che si faccia chiarezza. Molte volte in tutti gli interventi si è parlato di fare luce, di controlli e il Governo è d'accordo con questa necessità e questa impostazione senza perdere e guardando avanti, come diceva prima anche l'onorevole Vazio, tutto quello che ruota e l'importanza dell'affidamento presso le comunità familiari. L'affidamento familiare è infatti un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a minori provenienti da famiglie non in grado di occuparsi delle sue necessità e quindi attraverso l'affidamento che sia presso una famiglia o che sia presso una comunità familiare dobbiamo avere l'obiettivo comune che il bambino incontri o una famiglia o un luogo che lo accolga.